capitolo 21 offro consulenza sulle relazioni di coppia no sul serio perché ridete mai dare a un satiro una foto opportunity il pomeriggio successivo grover si presentò alla mia gara di nuoto con indosso berretto nero occhiali da sole e camicione bianco sembrava fosse pronto a dipingere acquerelli per le strade di parigi o qualcosa del genere tifò per me mentre partecipavo alla prima gara arrivai secondo perché non dovevo attirare l'attenzione con una vittoria poi chiacchierammo sugli spalti mentre guardavamo gareggiare i miei compagni di squadra ogni volta che c'era una pausa nella conversazione grover apriva il suo portfolio da quando in qua si portava dietro un portfolio ed esaminava i provini del servizio fotografico con blanche questa te l'ho fatta vedere mi domandò sono sicuro che me le hai fatte vedere tutte tentavo di essere carino ma il massimo che riuscivo a fare era dare un'occhiata veloce alle tante foto di grover che appoggiato in modo languido a un tronco bruciato fingeva di essere morto visto in questa ho la mano leggermente più alta spiegò blanche pensava che creasse una bella ombra sulla fronte ah certo fantastico applaudì un compagno che aveva appena cominciato la seconda vasca dai forza lì è lui mi corresse un altro ragazzo della mia squadra sulla panchina che pensavo si chiamasse chris ma con la fortuna che mi ritrovavo era probabilmente craig ehi ero nuovo all'alternativa high school il più delle volte non ricordavo neppure il mio nome in ogni caso ho chiesto a juniper se preferiva il formato c25 o a4 per la stampa finale riprese grover hanno entrambi dei vantaggi non volevo domandarglielo ma lo feci e quale ha scelto juniper gliene hai già parlato grover si accigliò sì è stato strano sembrava arrabbiata no accidenti pensai come mai secondo te grover si grattò il pizzetto intuì che stava riflettendo sulla risposta perché per un attimo si dimenticò dei provini non lo so ammise le ho detto che a blanche piace di più la posa in cui sono disteso sulla pancia ma che a blanche piace anche la luce nella foto in cui sono di profilo perciò quante volte hai fatto il nome di blanche mentre parlavi con juniper domandai grover mi fissò da sopra gli occhiali da sole gli occhi iniettati di sangue completamente smarriti sono sono foto di blanche quindi tante volte giusto grover corrugò la fronte non penserei mica pensi che juniper sia gelosa immaginai un coro di angeli dell'ovvietà che cantavano l'inno dell'ovvietà sopra la sua testa ma cercai di mantenere un'espressione neutra potrebbe essere no ma blanche ha una semidea mai e poi mai io deglutì credo di aver detto spesso il suo nome il fischio segnalò la fine della gara dei cento metri lì lo aveva vinto lo applaudì ed esultai insieme ai miei compagni di squadra ma decisi di non chiamarlo per nome quando mi girai grover si stava grattando la testa come se avesse delle formiche che brulicavano sotto il berretto forse una decina di volte borbottò oh no juniper ti ha chiesto una foto come regalo per il giorno della sua fioritura beh certo juniper grover esitò in effetti no credo sia stata una mia idea ho combinato un bel casino mi agitai sulla panchina ero l'ultima persona al mondo che avrebbe dovuto dare consigli sulle relazioni di coppia beh forse l'ultima al mondo dopo zeus mio padre e il resto degli dei dell'olimpo io in genere mi facevo guidare da annabeth e fino a quel momento aveva funzionato piuttosto bene con qualsiasi relazione che non fosse quella tra me e annabeth non mi sentivo qualificato per dare un parere ma grover mi guardava con occhi imploranti sei sincero con lei gli suggerì scusati dille che non avevi azionato il cervello che ti sei comportato da stupido giusto commentò il mio amico satiro annuendo lentamente come fai tu con annabeth eh sì magari potresti chiedere a juniper cosa piacerebbe a lei per il giorno della sua fioritura ma il ritratto grover guardò con aria pensosa ai provini decine di scatti di un satiro finto morto in una natura finta morta si tolse gli occhiali da sole e li infilò nel camicione mi sa che hai ragione tu ma in ogni caso non ha un posto dove appenderlo nella siepe dove vive è solo che blanche ha lavorato talmente sodo mi schierì la gola e non parlerò più di blanche si corresse grazie persi grover aveva un'aria così triste che decisi di cambiare discorso che mi dici delle ninfe delle nuvole suggerì hai detto che avresti chiesto in giro altre informazioni giusto si rianimò sì certo come no ho pensato che magari avrei potuto restringere il campo al greenwich village e magari scoprire quali posti bazica questo gheri ho parlato con faloa che ha parlato con euclimene e ha detto che aveva notato una strana energia dalle parti di washington square park una strana energia è praticamente la caratteristica di washington square park commentai sì ma questa non so lei non ha saputo darmi i dettagli però mi ha spiegato che nelle ultime settimane un sacco di spiriti della natura ha abbandonato il parco ninfe dell'erba ninfe dei fiori driadi o sono andate in letargo nelle profondità della terra oppure si sono prese a una vacanza immaginai una folla di ninfe con indosso abiti diafani e frondosi che trascinava le valigie lungo la passerella di una nave da crociera diretta a cancun per le vacanze di primavera gheri terrorizza così tanto gli spiriti della natura da farli fuggire dalla loro fonte di vita riflettei conosci qualche mostro dio con un nome che assomiglia a gheri gerione rabbrividi ricordando il mandriano con tre busti che avevo incontrato durante il mio unico viaggio in texas già dato l'ho ucciso qualcun altro gar gheri ghani ganimede questo sarebbe un bel colpo di scena diamo però per assodato che non abbia rubato il proprio calice qualcun altro grover scosse la testa forse un nome che farima con gheri larry harry tenuto conto che non ricordavo nemmeno come si chiamavano i miei compagni di squadra decisi di non giocare a indovinello con i nomi giù in piscina era cominciata la gara successiva il mio compagno lince o magari si chiamava linda era alla prima vasca dei 500 metri stile libero forse dovremmo andare al parco la mattina presto suggerì meno persone ci sono in giro meglio è se finiamo in uno scontro grover annui chissà se gheri è uno spirito della natura un grande spirito arrabbiato che fa fuggire per lo spavento tutti quelli piccoli nel caso forse potrei convincerlo ad ascoltarmi ripensai a come erano andate bene le cose con il grande dio fluviale arrabbiato di nome ilisso ma non ne feci cenno grover avrebbe avuto tutto il tempo per vedere infrante le sue speranze che ne dici di domani proposi potremmo incontrare annabeth a washington square park grover sussoltò sarà meglio che torni al campo mezzo sangue e passi un lungo fine settimana con juniper che ne dici di lunedì non ero bravo a rispettare i programmi ero quasi sicuro di avere un compito di matematica come prima cosa lunedì mattina ma ehi sicuramente per quell'ora il nostro incontro con il mostro sarebbe già stato concluso giusto e se la festa di minerva sul monte olimpo non era prevista fino alla domenica successiva tecnicamente ci lasciava un sacco di tempo per trovare il calice degli dei e riportarlo a ganimede ok concordai ci vediamo alle super presto in punto lunedì lo dirò ad annabeth viene a cena da me stasera perfetto replicò grover anche se sembrava agitato credi che non riuscì a concludere il pensiero era così preoccupato supposì per juniper che avrei voluto abbracciarlo avvolgerlo in una coperta morbida e calda e portarlo io stesso al campo mezzo sangue dato che non avevo tempo per fare il viaggio in macchina e non avevo nemmeno una coperta morbida e calda mi scervellai per trovare un consiglio utile da dargli mi tornò in mente una cosa che mi aveva detto annabeth mesi prima quando stavo tentando di capire cosa avrei potuto fare per rimediare alla mia scomparsa per tutto il nostro terzo anno di scuola superiore ehi amico juniper ti perdonerà lo rassicurai probabilmente non vorrà nessun regalo vuole solo che tu ci sia fai attenzione a come si sente stai con lei dalla piscina il mio allenatore gridò jackson tocca di nuovo a te era arrivato il momento di prepararmi per il tuffo dal trampolino alto devo andare disse a grover sì sì è solo che sono stato così stressato per me juniper ma sinceramente andava tutto bene tra noi finché non ho cominciato a farmi ossessionare del regalo per il giorno della sua fioritura e se non fosse questo che mi torba e se fossi preoccupato perché tu e annabeth mi lascerete la prossima estate lo avremmo lasciato la cosa mi colpì come un'ondata gelida dell'acqua di ilisso guardai i provini del servizio fotografico di blanche tutte quelle immagini di grover che fingeva di essere morto in un paesaggio angosciante in bianco e nero grover allora sì che lo abbracciai mi sentì un po' in imbarazzo visto che avevo indosso solo il costume ed ero ancora bagnato dopo la mia ultima gara ma la cosa non sembrò infastidirlo non ti lasceremo mai amico torneremo a trovarti verrai a farci visita in california sei come una sorgente di vita per noi non possiamo starti lontani a lungo senza cominciare ad appassire sai grover abbozzò un sorriso sì sì ok il mio allenatore mi chiamò di nuovo con un urlo vai mi disse grover sicuro di stare bene sicuro ci vediamo lunedì mattina a washington square park vogliamo fare alle sei e mezzo non volevo fare alle sei e mezzo e senz'altro non volevo essere sveglio a quell'ora il pensiero di dovermi alzare così presto per riuscire ad arrivare lì in tempo mi fece venire voglia di infilare la testa sott'acqua e urlare ma i satiri sono creature mattiniere mi sembra fantastico risposi poi con una corsetta leggera andai verso il trampolino